Nell'antichissima magia ebraica sono ben note le figure dei golem e dei terafim. I golem sono come delle statue fatte di terra che vengono insufflate di vita dal rabbino e vengono utilizzate come protezione, guerrieri, guerrieri nel senso che difendono, difensori. Sono figure rozze, grosse, un po' come degli zombie, solo che sono fatti di terra. Si trova la descrizione su come crearli nel libro ebraico Sefer Yetzirah, il libro della formazione, il libro della creazione, considerato molto più importante della successiva Kabbalah in quanto racchiude in sé il più profondo misticismo ebraico. Ci sono diverse copie in internet, in pdf, anche in italiano e potete leggerlo, ma difficilmente lo capirete perché le formule così semplici possono solo essere efficaci se chi le pronuncia ha un campo energetico santo, santo non nel senso cattolico del termine, ma nel senso più universale e divino del termine. Essere maghi bisogna esserlo da dentro, non serve pronunziare le formulette al limite, si hanno dei risultati emozionali che scompaiono subito dopo. Quindi c'è questa creazione del golem che viene utilizzato, che è stato utilizzato per esempio da un rabbino di Varsavia per proteggere gli ebrei, così dice la leggenda. Adesso al momento non mi viene in mente il nome del rabbino, comunque lo si ritrova. Simile al golem, ma utilizzato per scopi divinatori, è il terrafim. Sono statuette fatte di argilla, vuote all'interno perché poi all'interno verranno messi dei materiali particolari, vengono spesso tradotti con il nome di idoli, idoli oracoli, infatti venivano utilizzati per avere dei risponsi oracolari e per questo a volte vengono anche chiamati dei benefici o dei malefici, perché dipendeva tutto dal tipo di oracolo che facevano. Se l'oracolo non prometteva bene, era chiaro che veniva definito come la voce di un dio malefico. Queste statuette avevano la capacità di parlare, di esprimersi, anche perché al loro interno venivano messe spirali di rame, spirale d'argento, adesso non vi sto qui a dire la specifica composizione. Comunque avevano al loro interno, che era vuoto, dei materiali che permettevano l'attivazione di fenomeni materiali come appunto la voce. Anche il terrafim però, se non c'era un individuo in grado con il proprio campo energetico di attivarli, difficilmente queste statuette parlavano a chi che sia. Infatti i reperti archeologici trovati non sono reperti parlanti. Quello che fa la magia, come in radionica e continuo a ripeterlo a chi mi segue nei corsi che tengo, è fatta dall'individuo, perché altrimenti si ripetono pappagallescamente delle formule o delle istruzioni ricevute, che riescono a ottenere dei risultati solo in base all'afflato emozionale che l'apprendista mago ci mette. Ma quando è fatto sull'onda della credenza emozionale, i risultati durano poco se si ottengono. Alexandra David Neel è stata una grande esploratrice spiritualista francese, nata nel 1868, più conosciuta per il fatto che nel 1924 è riuscita a entrare in Tibet travestita da uomo tibetano. In Tibet ha viaggiato in lungo e largo, in genere da sola, ha incontrato molti lama tibetani e alcuni di questi l'hanno iniziata al buddismo magico, perché il buddismo tibetano, anche quello del Dalai Lama, sebbene non sia evidente perché il Dalai Lama non si mette a fare in pubblico, specie rivolgendosi al pubblico occidentale, i rituali magici tibetani. Quindi il buddismo tibetano è principalmente un buddismo magico. E Alexandra David Neel ha ricevuto una scuola incredibile da questi lama e anche dal suo percorso di disciplina come donna che ha vissuto sola nelle lande deserte del Tibet, in caverne, praticando gli insegnamenti che ha ricevuto. Ora perché vi parlo di lei? A parte che vi consiglio i suoi libri, perché è stata una cosa eccezionale riuscire a entrare in Tibet, che già era chiuso agli stranieri, figuriamoci per una donna. E figuriamoci arrivare a essere lei stessa un lama tibetano, dopo tutto l'apprendimento che ha ricevuto, anche questo è qualcosa di eccezionale. Per cui vi consiglio i libri che parlano di lei e i libri che lei ha scritto. Ma ora vi parlo di lei perché molto più avanti, quando aveva lasciato il Tibet, ebbe un incontro con Mirra Alfassa. Mirra Alfassa, comunemente conosciuta come la madre, mère o the mother, è stata la compagna spirituale di Sri Aurobindo, che è un nome noto per aver partecipato con Gandhi, però a livello spirituale alla liberazione dell'India, e poi noto per essere stato un grande maestro interiore, un grande maestro yogico, aveva ricevuto un'educazione britannica, ha scritto poesie spirituali in inglese, un uomo eccezionale, e Mère è stata la sua compagna spirituale. Mère, Mirra Alfassa, un'ebrea egiziana turca, che poi si è rifugiata a Parigi, la famiglia quando in Turchia hanno, che era sempre stata molto aperta a ogni tipo di religione, a un certo punto hanno cacciato gli ebrei, e quindi la famiglia di Mirra Alfassa si è rifugiata a Parigi, quindi è considerata una parigina. Comunque a Pondi Cerri si sono incontrate, Alexandra David Nel è andata a far visita a Mère, e chiacchierando le raccontò che in quei suoi anni di grande solitudine e chiaramente di grande lavoro interiore, la solitudine comunque era qualcosa che certamente pesava. E allora lei si creò una forma pensiero, immaginando, visualizzando un monaco che poi si è materializzato. E infatti tanti che la visitarono raccontarono poi che insieme a lei c'era anche questo monaco che non è il figlio che poi lei ha adottato, questo avveniva prima, questo monaco silenzioso che sembrava il suo aiutante, quello che l'aiutava, la serviva, così, ma che non pronunziava mai parola. Ora nei libri che citano questo fatto non si dice se i visitatori che andarono a visitare Alexandra David Nel avessero mai provato a toccarlo questo monaco che vedevano. Comunque questo era una forma pensiero materializzata. Quello che voglio dire è non so se la materializzazione significava che era in carne ed osso e quindi era tangibile o se era soltanto una visione che si presentava e che stava lì. Di fatto Alexandra David Nel raccontava a Mer come dopo un po' questa creazione fosse diventata quasi autonoma e quindi iniziava a comportarsi secondo un proprio sentire, secondo un proprio volere e di conseguenza la convivenza con tale forma pensiero diventava sempre più antipatica. Alexandra David Nel raccontò appunto a Mer che dovette decidere di eliminare questa forma pensiero ma che le costò tantissimo tempo e tantissima energia riuscire a dissolverlo. Questa introduzione per dire come campi energetici forti possano, possono arrivare a creazioni di cose davvero tangibili e reali. Ma qui si tratta appunto di campi energetici eccelsi, elevati, strutturati, esercitati che indirizzano miratamente la loro potente energia alla creazione di determinati oggetti oppure di determinate realtà visibili. Questi esempi che vi ho portato sono di campi energetici come ho già detto eccelsi quindi di persone che si sono esercitate ad acquisire quello che gli hindù chiamano le siddhi ovvero queste qualità che comunemente sono definite paranormali. Paranormali però sublimi, elevate rivolte al bene che sono quelle più difficili da conseguire perché noi viviamo in una realtà materiale di materia densa quindi difficile. Bisogna proprio esercitarsi con grande disciplina per riuscire ad arrivare a tali risultati. Quindi essendo che viviamo in una materia grezza, pesante è molto più facile conseguire risultati conseguire risultati negativi, pesanti proprio perché la materia densa continua a pesare su di noi rendendo estremamente difficile un percorso interiore evolutivo ecco perché sono davvero pochi che seguono un percorso interiore evolutivo perché costa davvero tanto tanta fatica tante esercitazioni tanta resistenza tanta determinazione e queste sono tutte qualità che oggi via via stanno sempre più scomparendo aiutati anche dal fatto che nel sottile tutte le vibrazioni anche quelle emesse da tutti i campi elettromagnetici tutto quello che c'è nell'etere che continua a pesarci addosso a pesarci sui nostri cervelli che rendono ancora più difficile riuscire a pulire la mente da tutte queste pesanti interferenze che nel sottile agiscono su di noi e ci guidano a fare scelte sempre più passe tuttavia questa è un po' la prova finale che testa chi veramente ha un'aspirazione evolutiva reale e chi invece non ce l'ha infatti nonostante la fatica tanti dentro stanno avvertendo che siamo a un punto di svolta e sebbene i più si accomunano ai vari gruppi contestatari catastrofisti in contrapposizione altri si sono accorti che appartenere a tutti questi gruppi vocianti e pieni di grosse emozioni negative non serve a nulla e quindi in tanti si sono staccati da tali manifestazioni che sono per lo più esterne perché non coinvolge la loro interiorità se non per le emozioni basse di rabbia e di negativismo e stanno davvero cercando di trovare la dritta per sopravvivere a tali situazioni che stiamo noi oggi vivendo e dare un senso interiore a quello che sta accadendo la spinta è interiore e ci obbliga a fare delle scelte ogni pensiero mistico esoterico ha sempre parlato di cicli terreni dove la terra per così dire si divide da una parte rimangono quelli che non hanno fatto il salto evolutivo che oggi spesso si chiama salto quantico e quindi non sono pronti a entrare in una nuova dimensione che vibra su frequenze diverse e questi sono di solito la maggior parte e gli altri la parte più piccola che sono invece pronti e fanno il salto evolutivo trasferendosi da un'altra parte anche se non è chiaramente comprensibile dalle loro descrizioni se questa divisione della terra avviene davvero materialmente nel senso che quelli più evoluti si spostano da un'altra parte alcuni dicono su un altro pianeta o cose di questo genere insomma alcuni dicono che arriva la navicella che ci porta da un'altra parte eppure gli antichi mistici non la definivano con la storia della navicella o con la storia che si emigra da qualche altra parte quindi è lecito pensare che si possa rimanere tutti sulla terra e vibrare su frequenze diverse pur vivendo sulla terra eppure essendo visibili gli uni agli altri perché è vero che ho continuato a ripetere perché lo spazio tutto è riempito da situazioni che si sovrappongono senza darsi fastidio proprio perché vibrano su frequenze diverse dove in alcuni casi le frequenze diverse non vengono neppure viste infatti noi troviamo attorno a noi tanto spazio vuoto che in effetti è pienissimo proprio perché è pieno di realtà su frequenze diverse però adesso io mi sto riferendo alla possibilità che il salto avvenga pur rimanendo sulla terra e essendo visibili gli uni agli altri anche se con vibrazioni diverse e adesso vi porto un esempio penso che a molti sarà capitato magari di avere un qualche conoscente che ci racconta di incontri che ha fatto con personaggi squallidissimi criminali anche e probabilmente voi avrete pensato come me ma dove è andato a vedere personaggi del genere dove li ha incontrati e io personalmente gliel'ho pure chiesto sentendomi rispondere che no così per la strada capita ci incappi dentro cominci a parlare o le vedi o storie disparatorie questo per dire che in base al nostro stato vibrazionale noi attiriamo determinate realtà che possono essere totalmente opposte le une con le altre e che corrispondono al tipo di qualità vibratoria di determinati gruppi di esseri umani quindi quelle persone che pur non essendo a livelli vibratori così alti non hanno forse dei livelli vibratori ancora più elevati sono a metà possono incappare in situazioni squalidissime come pure in situazioni più elementi adesso al di là di come poi effettivamente avverrà questo salto quantico se non sta già avvenendo nelle modalità in quest'ultima modalità che vi ho detto per cui siamo tutti ancora qui ma con delle realtà che nonostante il terrore che ci vogliono inculcare noi personalmente non abbiamo realtà non viviamo realtà così disastrose e questo ci permette di pensare che quanto più eleviamo il nostro stato vibratorio tanto più saremo in grado di vivere in situazioni che per molti sono davvero disastrose opprimenti che incutono paura per possibili catastrofi mentre noi nel nostro quotidiano se non ci lasciamo contaminare dalla paura generale noi però facendo i conti con la nostra realtà vediamo che è una realtà buona che abbiamo delle buone risposte che otteniamo dei buoni risultati possiamo vivere sireni che viviamo in un modo pacato e positivo che procura bene a noi e agli altri che abbiamo attorno quindi è davvero importante continuare questo lavoro di purificazione interiore che ci permette di evolvere ed è di elevarci per vibrare su frequenze sempre più positive e attirare una realtà quotidiana che nonostante tutto il bailame che abbiamo attorno si mantiene positiva un passo fondamentale che davvero ci permette di fare uno scatto in avanti importante è quello di tagliare le pesantezze che abbiamo accumulato attraverso le nostre esperienze di vita pesanti cattive ingiuste violente che abbiamo sperimentato e che appunto di sicuro stiamo tentando di superare o magari abbiamo anche già superato e sebbene pieni di cicatrici stiamo recuperando una quotidianità più benefica il passo successivo è quello di curare le cicatrici perché le cicatrici sono accumuli di memoria che rimangono lì incrostate addosso che basta rincontrare rivedere anche senza esserne particolarmente coinvolti situazioni analoghe al bruttume alla bruttura che abbiamo vissuto che queste si riaccendono portandoci a rievocare la sofferenza patita quando nella vostra rielaborazione del malvissuto sofferto arrivate al punto che vi rendete conto di portare una zavorra che non appartiene più al vostro quotidiano ma che comunque è una zavorra siete probabilmente pronti a fare il passo successivo sono tre i passaggi che ora è tempo di attivare dentro di noi il primo passaggio è perdonarsi per tutti gli errori fatti quelli fatti sapendo di essere intorto o quelli che non si è riusciti a non farli perché per molti e diversi motivi fra loro non si è riusciti a vedere possibilità differenti con cui reagire e ovviamente perdonarsi per tutti gli errori fatti senza saperlo insomma perdonarsi per non aver saputo al tempo quello che avremmo dovuto sapere per non fare gli errori che poi abbiamo commesso e perdonarsi anche per tutte le volte che abbiamo lasciato che gli altri ci guidassero verso scelte che non sentivamo le nostre come pure perdonarsi per tutte le volte che abbiamo lasciato che abbiamo permesso agli altri di farci male il secondo passaggio è quello di tagliare i legami stipulati in vite precedenti per cui ci siamo ritrovati a obbedire a un patto concordato un tempo lontano che in questa vita però non aveva più il senso di allora per questo è indispensabile stracciare quell'accordo e svincolarsi dagli obblighi presi in quella lontana occasione in una visualizzazione possiamo richiamare le persone o le situazioni assurde senza senso che abbiamo continuamente vissuto quelle ripetitive che obbligano a reiterare a oltranza lo stesso modello di comportamento senza riuscire a trovare un'azione risolutiva le parole con cui tagliare il patto che in questa vita risulta annichilente potrebbero essere ti perdono e ti libero dal vincolo con me e ti lascio andare tu seguirai la tua vita e che l'amore ti accompagni e io mi perdono per essere rimasta in questa situazione e ti lascio ora dietro di me per procedere sulla mia strada non abbiamo più bisogno di questo legame malato ognuno può prendere la sua via in totale libertà dall'altro attivando così le benedizioni che finalmente adesso potremmo richiamare questo passaggio è molto forte ed è estremamente liberatorio quando finalmente ci si arriva si sa che si è arrivati a un punto importante della propria evoluzione interiore il passo successivo è quello forse più più bello e arricchente a cui bisogna comunque arrivarci quando si è pronti ed è quello di liberarsi totalmente dalla paura la paura non è reale è un fantasma che ci aleggia attorno fatto solo e creato solo per tenerci schiacciati e dipendenti effettivamente l'unica realtà è l'amore ed è una conquista gli esoteristi spiegano che il perdono è un passo importante da fare non è qualcosa che ci si può obbligare a fare perché quello non è perdono deve proprio arrivare spontaneamente e arriva spontaneamente quando ci si rende conto che si sta portando dei pesi delle zaborre che non ci servono più ma perché è importante perché per poter passare alle frequenze alla dimensione successiva non possiamo avere del karma di questo tipo non ancora risolto quando noi abbiamo questo tipo di karma non possiamo pensare di entrare nella prossima dimensione perché abbiamo addosso troppi fardelli da eliminare è importante arrivare a questo passaggio non lo si può forzare però si può aprirsi al pensiero che è lì che vogliamo arrivare anche se al momento non siamo ancora in grado di esserci di esserci di esserci